In consiglio regionale si è parlato anche di lavoratori italiani all'estero perché si è scoperto che le tasse che pagano vengono incamerate incredibilmente tutte dal comune di Roma, indipendentemente dalla residenza del lavoratore. Ci spiega tutto il consigliere Silvana Saita. Consigliere Saita, nel corso della scorsa seduta del consiglio regionale è passata una sua mozione che prevede di lasciare sul territorio lombardo le tasse che i lombardi che lavorano all'estero versano. Si tratta di circa 260.000 lombardi. I cittadini italiani che lavorano all'estero o sono pensionati oltre 12 mesi devono iscriversi all'Aere che è l'associazione italiana residente all'estero. Ogni comune ha il suo albo. Tutti i dati dei comuni confluiscono all'Aere centrale che è al Viminale, quindi alla sede centrale lì. Questo ha comportato, lo abbiamo scoperto e io sono stupita di questa cosa, che le tasse che pagano loro vanno al comune di Roma e alla regione Lazio ed è disdicevole. Primo perché è un'annesima ruberia della capitale di Roma. Secondo perché sono costretti a pagare le tasse più alte perché essendo indebitato sia Lazio per la sanità sia Roma ha delle quote di pagamento elevatissime, le più alte d'Italia. Chiediamo al Viminale che ognuno paghi al proprio comune di residenza che credo sia anche una cosa logica. Quindi adesso attendete naturalmente risposte dal governo centrale? Attendiamo risposta che speriamo arrivi, se no continueremo a bussare e a chiedere perché è veramente incongruente questa cosa. Senta, parlando però sempre di comuni legata alla legge di stabilità, si parla da ieri di una sostituzione di tributi, TUC, questo nuovo tributo unico appunto comunale. Cosa ne pensa? Come anche Ex-Sin? Ne penso tutto il male possibile. C'è ancora la Tari e il Simballo, si sono inventati la Tari per il rifiuto, la Tasi per il servizio, poi la Trise e adesso arriva TUC. Sono sigle per confondere la gente e nascondere le tasse che aumentano. Non è vero che le hanno diminuite. E i comuni saranno costretti, non devono buttare addosso ai sindaci le colpe, ad aumentare le tasse per mantenere i servizi.